è una lettera simpatica è una cosa fatta bene e seria signorina prego no 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 signorina no no una volta io pensavo a noi qui signorina no no signorina no facciamo che è un uomo Das Ca Das Ca aah ci hai capito dovete andare all'estero dove vuoi andare? Das Ca è il nigeriano no daska siccome siccome come se dice? dat-to-si-che ah-to-si-che dat-to-si dat-to-si Daska dat-to-si-che che 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 dato-si che ah dato-si-che e tu dici che è uno difficile di passare Dato si che chiudo su chiudo su no no su dice dato si che che ora che due che che dato si che che allora lì c'è uno dato si che dato si che la croce chi è la croce? la croce quello è pure fatta la croce? è perchè avevo messo uno che e poi non poi ci fanno la croce e ci fanno la croce va bene facciamo la croce e facciamo la croce e padre e figlio padre spirito santo e così sia non è possibile ma facciamo che vogliamo fare adesso facciamo le lettere dove è pepito io no ma che stai facendo? è una lettera amorosa eh? amorosa amorosa a chi? dato si che signora amorosa amorosa ma chi è? la signora amorosa non è rossi non è rossi deve essere una lettera amorosa ah la lettera è amorosa leva amorosa allora dato si che non è rossi ma non è rossi ma non è rossi ma è rossi quanto è rossi ma? questa lettera è la tua fighiata è bella ma la mia ma la mia ma la mia ma la mia ti voglio bene? ti voglio bene 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 ti voglio ti voglio ti voglio ti voglio a di, al giorno che dispiace che si pide colore, che si dispiace ma che lo vuole dire così, ah dispiace ah va bene, allora si fa così, ah che dispiace ah dispiace che cosa mi dispiace? ma a me mi dispiace che mi ha ammaccato la macchina e se lui e Brito mi stanno facendo perdere un uovo e mi dirlo gli faccio ammaccato la macchina? e allora, allora, come si faccia la macchina di più ma aspettate un attimo, ma è chiarito l'equivoco poi ti ha ammaccato la macchina, signore perciò chi lo ha fatto la lettera? è così o no? ma a me ti serve una lettera, amorosa, non amorosa ma perché io volevo mettere pace? ti facciamo una lettera d'amore oh ma io stavo sotto la macchina e gli fanno una lettera d'amore che la cosa si la fa pure e si fanno a me la munizia, mi stanno a me là sotto ma ci sono un uomo e si diceva signora, si è ammazzata a te io amo e si stia con un po' percorno e si diceva no, sono io che vi amo poi e si stia ammazzata a te ma è stato facendo un po' percorno poi c'è un cazzo che vuoi capire dunque, si fanno a far niente la macchina del signore e si deve fare la lettera si fanno a far niente? ma guarda chi le dice pure si chi ha portato la macchina? bravo, che stia domando? issa! eh, che merosca! ma come si può fare? ogni mese fai 12 incidenti all'anno uno al mese con il mio calendario e ancora ti stia a portare la macchina e pure la piccola tenete da una canna di portare la macchina gli ho chiesto prima mi diceva ho fatto il tuo carruzio e lì era pure in braccia la mamma e non ti dà la colla di pazzia però la macchina non la sai portare veramente non la sai portare comunque, calma calma perchè non è detto che a forza la mamma fa nulla la lettera perchè noi venivamo da destra ah 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 oi però se venivano dalla destra avevano ragione eh ma che vuol dire non sempre la destra ha ragione a volte pure la sinistra